Bianconeri, sulle scelte! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Official Fan Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Empoli, prima giornata di campionato, sabato 28 agosto, ore 20.45. Viaggio di andata e ritorno, più biglietto stadio. Ci trovi a Lizzano in piazza Matteotti 22. Per info e contatti Antonio 348 80 88 803. Cristian 349 68 000 66 e grida con noi Forza Juve fino alla fine.